Diciamo che Travaglio è uno a cui piace sempre essere Davide contro Golia, il problema è che adesso Davide è diventato Golia, e quindi adesso si verrà un altro nemico, ma qui l'ha esaurito. Lui ha delle aspettative con i 5 Stelle così elevate che se i 5 Stelle le deludono ci metterà un attimo a diventare il loro critico più severo.